Grande partecipazione di scuole e famiglie per l'intenso weekend appena conclusosi organizzato dal centro commerciale Mongolfiera Pasteur di Bari con le associazioni ciaovini, amichi e genitori in campo. È stata chiamata guida in stato di sicurezza la due giorni che ha coinvolto centinaia di persone appassionate della due ruote e interessate a partecipare alle pillole di sicurezza stradale. Tantissimi i ragazzi delle scuole presenti e non solo che si sono sottoposti al crash test, un grande tir di 12 metri sul quale sono stati montati un simulatore di ribaltamento auto, un simulatore di impatto e un maxi schermo per testare di persona che cosa si prova, se il proprio mezzo si ribalta mentre si è alla guida o nel sedile accanto. Attenzione anche per le pillole di sicurezza con lo psicologo del traffico e il traumatologo della strada. Soddisfatta la direttrice del centro commerciale Silvia Di Trani. Sì, sicuramente risulta importante per noi essere sempre presenti sul nostro territorio di riferimento coinvolgendo le scuole in una serie di attività. Questa è una di quelle. Parleremo di sicurezza stradale per ben due giorni partendo appunto da lezioni di psicologi e traumatologi e simulazioni di incidenti proprio per sensibilizzare i nostri ragazzi su questo tema importantissimo. Continueremo con una biciclettata che partirà chiaramente da Mongolfiera Pasterra questo pomeriggio e concluderemo questi due giorni con un motodraduno della Ducati. Due giorni interi dedicati alla sicurezza stradale e alle due ruote proprio per mantenere sempre alta l'attenzione rispetto a questo tema a tutti noi molto caro. Lei è una mamma oltre ad essere ovviamente la direttrice del centro commerciale. Un suo messaggio ai ragazzi che oggi stanno ascoltando con grande attenzione? Usare la testa sempre in ogni cosa della vita e non tralasciare mai i consigli e gli input che ci arrivano da persone insomma esperte. Il centro commerciale ha ospitato anche la partenza della seconda edizione di Illumina di Bici, un giro in bicicletta in città per affermare una mobilità più dolce e sostenibile e godere dei suoi benefici. Boom di presenze per il motodraduno Ducati che ha portato nella grande area allestita all'esterno del centro commerciale ben 80 fiammanti moto, occhi sgranati e sguardi ammirati per i bolidi e tante fotografie da parte di bambini adulti. Soddisfatto Francesco Devenuto, presidente Desmo Branco Club Ducati Doc Bari, che ha dato vita anche a prove di lentezza e rumore. Essere un ducatista vuol dire riconoscere la fede nel Desmo, riconoscersi in una famiglia chiamata Desmo Nerds Club. Il ducatista è una persona, un amante di Ducati anche se non possiede una Ducati. Un ducatista è una persona che si innamora di un pilota anche se non vince i mondiali, perché se noi vediamo che un pilota fa un buon lavoro e ci mette passione in quello che fa, per noi è già entrato nella storia. Vedo che già sua figlia è indirizzata. È già indirizzata, è dottrinata e lei sa già quale moto dovrà prendere quando sarà un pochettino più grande. Grazie a tutti.